Il mio lavoro è un lavoro d'ufficio che va dall'amministrazione, quindi registrazione delle fatture, a quello che è però anche il commerciale, quindi richiedere offerte ai fornitori, andare a ritirare il materiale, consegnare il materiale in cantiere e coordinare tutti quelli che sono poi i lavori che nella pratica vengono effettuati dai nostri collaboratori. Consiglierei questo lavoro se c'è la giusta passione che spinge a conoscere un mondo in continua evoluzione, dove il settore elettrico si intreccia sempre di più con quello elettronico e offre sempre più ampie possibilità. Da bambina diciamo che avevo tantissimi sogni, nel senso che avrei voluto fare l'architetto, avrei voluto fare il geometra, avrei voluto fare il perito elettrotecnico, la commercialista, ma sempre lavori che fossero da imprenditore. Quindi onestamente ho sempre avuto proprio la passione per qualcosa da fare crescere che fosse mio.